Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. E' un'epidemia di colera, tant'è vero che le autorità russe, le truppe occupanti hanno messo in quarantena tutta la città. E poi c'è da dire che si combatte naturalmente nella zona più a nord, sempre a nord-est, però Severodonesca, parliamo del Donbass, parliamo di Lisi-Cianska. Sono zone dove c'è una pesante offensiva russa, che però si sta spostando anche verso l'asse settentrionale del paese. A te Andrea. Grazie, grazie a Fabio Angiolicchio. Allora tu proseguirai.